Bella ragazzi, allora dopo due giorni anche questo video è difficile a farlo, molto difficile e porca puttana, insomma, Inter fuori dalla Champions, costretta a fare l'Europa League per uno sbaglio clamoroso, perché alla fine è colpa nostra, siamo stati noi a volere questo e a me mi dispiace tantissimo, però il calcio è anche così, è questo, si gioisce, si salta, si canta, però certe volte bisogna anche saper soffrire, è quello che stiamo passando noi tifosi interisti, ma penso anche ai tifosi napoletani che stiano passando questo momento, perché è dura, è brutto uscire così ragazzi, molto molto brutto uscire così, sinceramente non è che mi stia genio uscire così a me, perché tu hai messo in difficoltà due grandissime squadre, c'è, è messo in difficoltà in casa per lo più in Barcellona, è messo in difficoltà vincendo il Tottenham, poi l'oggiù è andata come è andata per un errore difensivo, stiamo facendo troppi errori difensivi in queste ultime giornate, però come si dice, chi sbaglia paga, e noi l'abbiamo pagato, immeritatamente, perché forse meritavi qualcosa di più, però come ho detto, l'abbiamo voluto noi, e vabbè, Inter PSV, allora, premetto che l'Inter ha fatto la partita, però quel cazzo di Esamuà ha rotto i coglioni, parte bene, fa l'inizio stagionale grande, arrivati a un tot di partite, inizia a fare cappellate, e allora non si va d'accordo, cappellate così non me le devi fare, perché te devo insegnare anche la scuola calcio che è in fase difensiva, e le giocate non le devi fare, le giocate non le devi fare, per niente, sono un po' abbattuto ragazzi, però capita, purtroppo è capitato a noi, sarebbe stato bello avere più italiani in Champions League, però è andata come è andata, andremo a fare la coppetta degli sfigati il giovedì, anche se è sempre un trofeo, però va bene, dai, ci rimbocchiamo le maniche, si alza la testa, si guarda avanti, e niente, niente perché abbiamo fatto malissimo uscire così, non nego di aver pianto quella sera, perché per me meritavi di più, e purtroppo la palla, se non vuole entrare, la porta ti si rende stregata, e ha fatto un miracolo al portiere su Icardi, che ha tirato un missile, vabbè, io, come sempre, Spalletti non mi leva Perisic, lo fa sempre giocare, a me mi ha rotto il cazzo Perisic, mi ha rotto il cazzo, mi ha rotto, ma mi ha rotto il cazzo a me Perisic, perché se tu vuoi andartene e non hai voglia di fare bene, cioè almeno tu sei pagato per giocare bene e fare bene, non capisco perché devi fare così schifo, non lo so, sì che si sta capendo che te ne vuoi andare, e si ha capito che te ne vuoi andare, però te sei professionista, ti pagano per quel che sei, e devi fare quello che devi fare, cioè non devi far cagare, ti pagano per far bene, non per far cagate, che c'è gente che non arriva a fine mese, e te, da professionista, calciatore, mi fai ste cazzate, non fai un cazzo, hai rotto veramente il cazzo, Asamoah, riguarda te, non ho parole, mi hai fatto perdere con la Juve, mi hai fatto andare fuori dalla Champions League, non ho parole Asamoah, non ho veramente parole, dico perché ci hai fatto andare fuori dalla Champions League, perché ragazzi, sullo 0-0 invece che 1-0 PSV sullo 0-0 sarebbe stata un'altra partita, l'Inter sarebbe andata a vincere sicuramente, sicuramente saresti andata a vincerla, poi sarà stato anche che eri troppo sicuro del risultato del Barcellona che fino a quel momento vinceva, poi fino all'ottantasettesimo tu eri passato, però sai il calcio dura 90 più recupero finché l'arbitro non fischia e se ti deconcentri e stai calmo, dovevi fare la partita piuttosto avessi giocato dopo con l'Udinese in casa che non te ne fregava un cazzo, facevi un po' di turnover alla fine in casa con l'Udinese e ti giocavi il tutto per tutto perché lì dovevi giocare il tutto per tutto, dovevi dare l'anima, il cuore, la grinta, la cattiveria, il sangue, per certi tratti la partita è stata dominata ragazzi, da noi è stata dominata perché se andate a vedere i tiri in porta del PSV, un tiro solo in porta, quello del gol regalato, per questo che non mi galbo uscire così, regalare le cose agli altri, vabbè, io ragazzi vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale perché ora mi sto rompendo anche un popoino, un pochino mi sto rompendo perché vedo che qui non si cresce invece non mi volete aiutare, però, vabbè, io continuo e non demordo, boi a chi molla ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un commento, voglio sapere la vostra, lasciate un like, condividete il video un bacione, che si vinca che si perda, forse Inter e Juve merda, amala belli